Intervento dei Vigili del Fuoco stamane intorno alle 10.30 per un mezzo pesante ribaltatosi sulla superstrada Pedemontana Veneta all'altezza del casello di Altivoli in direzione di Monte Belluna. Ferito l'autista. Al lavoro la squadra del distaccamento di Castelfranco Veneto che ha messo in sicurezza in mezzo mentre l'autista ferito, che era già fuori dal camion, è stato stabilizzato dal personale medico ed eli trasportato in ospedale a Treviso. Sul posto anche la polizia stradale per chiarire la dinamica dell'incidente. L'intervento di soccorso è terminato dopo circa un'ora.